Su, fazza, muoiti! Che succede? Tu hai biondo nei guai. Ehi, aspettami! Ehi, che meraviglia! Tu prendi il pupo. All'uomo di Nanderthal ci penso io. Lei presenta il nostro tecnico, il signor Walsh. Walsh, questa è la signorina... Signorina... Signorina? Angie, Angie Crawford. Angie, Angie Crawford. Salve, Angie. E questa è la signorina? Gallina cucilobbata. Come stai, gallina? E questa è la macchina? Puoi fare qualcosa? Io credo che il problema sta qua. Eh, sì, il problema sta proprio qua. Vedo chi è lei sa dove mettere mani. E non hai ancora visto niente, gallina? Sa che io adoro la sua uniforme? Grazie. E certo, è duro fare il poliziotto. È anche pericoloso, ma... Eccitante allo stesso tempo. Eh, sì, molto eccitante. Eh, sì. Eh, sì. Lei abita qui? Oh, no, abito a Philadelphia. Vede, sono ospite della contessa. Della contessa? Sì, la mia amica gallina è contessa. Dice davvero? Una contessa? Sì, lei è russa. E ha una villa stupenda qui a Miami. Ah, hai capito. Attenta alla testa che te la ciongo. Era il cavo della batteria. Visto che è bravo. Sì, è veramente bravo. Lei è un mostro, Wilbur. Sì, però è simpatico. Grazie per averci salvati. Che possiamo fare per sdebettarci? Non potremmo invitarli a passare il weekend alla villa? L'indirizzo. L'indirizzo. 2016. 2016. 2016. Pal Bay Drive. Pal Bay Drive. Sir Ryan, dimenticavi lo weekend of Wilbur. Ci puoi giurare, gallina? Ci vediamo venerdì, allora. Ci vediamo venerdì, Angie. Buce giorni. Bye. Do svedagno. Che cazzo. Che gallina. Ciao. Ciao. Ciao.